bello a tutti ragazzi e benvenuti sul mio canale ragazzi oggi ragazzi secondo me avete visto dal titolo oggi vi voglio dire i numeri di maglia delle interazioni dei 24 giocatori in rosa ragazzi ora andiamo a vedere ora si partiamo con la ragazza qui ragazzi ho una foto e immagine ragazzi ora ragazzi facciamo la telepettina ragazzi il più importante ragazzi è Emil Audelo in presito dalla Sampdoria ragazzi che sarà riscaldato ragazzi ragazzi che il suo valore è di 6 milioni poi adesso andiamo al primo portiere ragazzi che è Jan Sommer che è un ragazza che è venuto dal Bayer Monaco ragazzi ragazzi che il suo valore è di 5 milioni ragazzi andiamo dal terzo ragazza che è venuto dal dal Basileo stava dall'Inter con la numero 12 che vale 300 milioni 300 milioni 300 milioni poi ragazzi ragazzi Alessandro Bastoni ah ragazzi andiamo al diventatore centrale Alessandro Bastoni 9 da 5 valore 60 milioni ragazzi andiamo al a Benjamin Pavard che era la numero 28 che era la numero 28 ragazzi che era come da qui valore 40 milioni poi ragazzi andiamo a Stefan De Vrij con la numero 6 valore 8 milioni poi ragazzi poi ragazzi Jan Bisek Jan Sambi Jan Bisek ah non soffreti chissi ma tu stai scogliamo Jan Jan come ascoltare Jan Bisek che è venuto dal no non ho una cosa che sta ascoltando ragazzi valore 5 milioni ragazzi poi ragazzi andiamo a Francesco Acerbi Francesco Acerbi che la valore non 15 ragazzi che attualmente stai fortunato ragazzi valore 4 milioni ragazzi 12 calzato dalla Lazio ragazzi Federico Di diciamo è un esterno diciamo Federico Federico Di Marco numero 32 valore 35 milioni poi Matteo Termian numero 36 valore 4 milioni poi ora andiamo ai cercampisti che sono anche che sono anche di Marco sono cercampisti poi che sono Cristian Acerani numero 21 valore 12 milioni poi Lucian Haagumè maglia 34 allora so so volgine gioca so volgine giocato valore di mercato 7 milioni ah faccio 7 milioni poi ragazzi Niccolò Varela numero 23 valore di mercato 75 milioni poi ragazzi Acan Cianoglu numero 20 valore di mercato 40 poi Davide Fartesi maria numero 16 in prestito con diritto di scatto da solo valore di mercato 25 milioni poi Stefano Senti di maria numero 5 attualmente infortunato valore valore di mercato 8 milioni poi Eric Mkhitaryan maria numero 22 valore di mercato 6 milioni poi Desendofris maria numero 2 28 milioni valore di mercato poi ragazzi giovan giovan quadrato ma è il numero 7 da stricolato valore 4 milioni poi carlos agosto ma è il numero 30 valore di mercato 15 milioni il peso dito da da al monza con diritto di scatto ragazzi Davy Klaassen ragazzi che ha la 9 14 la quale non ancora dove ha messo per ragazzi lui ragazzi è olandese e quindi la 9 14 è di Cruyff valore di ragazzi 10 milioni pagato a 0 quindi buono quindi ragazzi poi lautaro martine ora andiamo agli attaccanti lautaro martine smile e il capitano delente bobo di mercato 85 ballone poi poi ragazzi marco stram maglia 9 32 meno di cacci mancato pagata a 0 poi ragazzi marco arnantovic ragazzoni valore di 5 milioni però si ha un ritorno con 70 ragazzi valore di 4 milioni per ragazzi questa è la rosa dell'inted dell'altro stadio 23 2024 ragazzi ci vediamo ragazzi domani ho un altro video ragazzi quindi bella sempre forza enter ciao ragazzi bella ragazzi ragazzi